Stamane è stato delineato un ritratto a tutto tondo di Giulio Bollati come editore nelle sue varie fasi alle Inaudi, poi il relativamente breve passaggio milanese con Saggiatore e poi l'ultimo periodo con Boringhieri, poi Bollati e Boringhieri. Quindi delineato questo ritratto a tutto tondo dell'editore abbiamo iniziato con l'ultima relazione a inserire qualche tassello che riguarda altri aspetti della ricca personalità, della moltefice personalità di Giulio Bollati. E quindi continuiamo adesso, in questo senso, con una relazione di Alfonso Berardinelli. Non lo presento, perché non ho bisogno di presentare, anche stamattina i relatori non sono stati presentati, non per scortesia ovviamente, ma semplicemente perché non ne avevano bisogno. E continuiamo quindi in questo modo. Alfonso Berardinelli ci parlerà di un impegno, un'amicizia, quindi un tassello che penso aggiungerà anche un riferimento a una dimensione personale che stamattina c'è stata, ma soltanto sullo sfondo. Ecco, prego. Buonasera, la mia sarà solo una specie di glossa marginale alle relazioni di stamattina che hanno affrontato problemi grossi, diciamo, il ritratto che Barberis ha fatto di Bollati e quel panorama della situazione culturale in certi anni, di cui ha parlato Bidussa, discorso molto affascinante che andrebbe approfondito, direi che addirittura nel discorso di Bidussa potrebbe, forse dovrebbe diventare un libro, perché si va al di là della stessa vicenda personale di Giulio, il quale sicuramente sapeva, vedeva, intuiva quello che stava avvenendo, perché, insomma, se un editore non fa questo, come fa a fare l'editore? E in effetti è stato un momento molto complesso che, appunto, andrebbe studiato. Io, dicevo, ho fatto una glossa personale con qualcosa magari di aneddotico, di leggerino, per cominciare. Ho conosciuto Bollati nel 1983, quando lui aveva quasi 60 anni, e io, 40, due età che forse hanno un loro significato, mi ero da poco divertito a satireggiare Alberto Asorrosa, direttore della grande opera letteratura italiana in Audi, in più di 20 volumi, analizzando soltanto la prima frase del suo testo introduttivo. La frase, in effetti, era piuttosto risibile, benché solenne. Era questa, la letteratura è un fenomeno complesso, che poteva essere letta anche come una specie di confessione di inadeguatezza di colui che l'aveva scritta, rispetto alla letteratura. mentalità politica, più che letteraria, quella del direttore della letteratura italiana. Calvino e Bollati avevano letto le mie pagine e il primo, Calvino, mi scrisse un biglietto in cui diceva di essere completamente d'accordo su una vicenda che sarebbe durata anni, insomma. Di Bollati allora non sapevo molto, ricordavo solo che nel 1979, quando stavo per andare al ritiro estivo in Val d'Aosta, per una iniziativa di Fortini, si parlava della possibilità di rifare un Menabò, una rivista con il Menabò, andai, e prima di andare Elsa Morante mi aveva detto cerca di parlare con Bollati perché è il più intelligente. non ero rimasto lì più di un giorno e con Bollati non parlai per timidezza e perché nel corso delle riunioni lo guardavo, cercavo di osservarlo e mi sembrava un po' assente rispetto agli scontri e agli attriti, alle rivalità in campo. Ma sapevo che la collana in Audi, di cui mi ero nutrito da quando avevo vent'anni, era diretta proprio da Bollati e intitolata, non a caso, il nuovo Politecnico. aveva pubblicato L'uomo nella dimensione di Marcuse, Asylum di Goffman, L'io diviso di Leing, Palaver di Hans Berger, Crepuscolo di Max Horkheimer, tutti libri che nella mia generazione hanno avuto un certo peso, insomma, almeno fra coloro che leggevano davvero intorno al 68 si smise anche un po' di leggere, ma insomma comunque erano i libri giusti per quel periodo. Quando Bollati uscì dall'Ainaudi e aveva appena cominciato a dirigere il saggiatore, lo incontrai a Roma, forse anche perché gli aveva parlato di me il mio amico Franco Brioschi, che collaborava allora con il saggiatore da anni. E allora che Bollati mi chiese di raccogliere i miei primi saggi, e qui scusate l'aneddotica, ma ha anche un lato umoristico, i miei saggi, che io l'avevo scritti, ma non avevo l'idea ancora che potessero essere un libro, lui disse facciamo un libro. Così uscì presto il Critico senza Mestiere, che con mia sorpresa fu pubblicato in prima pagina su Repubblica, in prima pagina di Repubblica, con queste parole. Il libro che segna una svolta nella critica letteraria italiana. Ne fui spaventato. Chiamai Bollati, per ringraziarlo naturalmente, e gli dissi che non credevo che quella frase fosse veramente vera. Lui ridendo mi dispose, sarà vera. E questo è l'istinto strategico, diciamo, di un vero editore. L'istinto dell'editore che può anche sbagliare, ma che ha il coraggio eventualmente di sbagliare. Di fatto, quel libro fu pressoché ignorato, e la svolta critica, se ci fu, arrivò dieci anni più tardi. Nel 1990, quando nella rivista Diario, che scrivevo allora con Pier Giorgio Bellocchio, uscì un mio saggio aforistico intitolato «Chi ci libererà dalla politica». mi suonava bene, cioè come qualcosa di reale, anche se tutte le implicazioni non le vedevo, non potevo vederle, ed erano molte. Nel corso di una cena o di un pranzo, mi ricordo, in una terrazza che non saprei individuare, Giulio si girò improvvisamente verso di me e mi ripetè, senza aggiungere niente, ma in modo esclamativo «Chi ci libererà dalla politica?». Ecco, l'intelligenza di Bollati era infatti di strategia culturale, editoriale, essendo solo questo il suo modo di impegnarsi politicamente. Aveva infatti ripetutamente rifiutato inviti che venivano dal Partito Comunista di candidarsi. Non so, per parlamentare. La sua vocazione era un'altra. Ultima frase ironica che ricordo di lui, quando consegnai il mio primo panorama della saggistica italiana, il mio panorama della saggistica italiana da De Santis al Novecento per la storia della letteratura italiana di Brioschi e di Girolamo, mi disse, altra ironia, perché si esprimeva in un modo che era, come dire, se si può usare questo simbolo, autorevolmente ironico. Ora finalmente so chi sono, un saggista. Dal punto di vista, in effetti, dal punto di vista della sua ricerca, dei suoi libri, lui lo è effettivamente, perché si vede di continuo che nei personaggi della vicenda che sta esaminando, da veri in poi, lui c'è. E questo è il segno che, diciamo, è evidente di quanto Giacomo De Benedetti, già negli anni venti, scrive un breve saggio intitolato La critica come autobiografia. E in effetti Bollati, per quello che io conosca, è uno degli autori in cui c'è più autobiografia non esplicita nelle sue ricerche e nella creazione del suo, come dire, dramma o teatro storico che ha portato l'Italia da una certa situazione alla situazione poi novecentesca. Non poteva essere appunto che questo, non poteva essere che un saggista, avendo studiato e valorizzato proprio politicamente la crestomazia della prosa e le operette morali di Leopardi, nonché la prosa morale e civile di tutto il nostro Ottocento. L'accoglienza che Giulio mi concesse alla Bollati, devo parlare in termini anche in cui dico io, perché ho detto un'amicizia, un'impegno, quindi. L'accoglienza che mi concesse alla Bollati poringhieri come editor letterario, credo che però sia stata troppo generosa, perché io non avevo né le attitudini, né le ambizioni dell'editore. Mi bastava, mi sarebbe bastato e mi bastava collaborare un po' genericamente e magari assistere seguendo questioni non solo letterarie, questo è il punto sensibile, non solo letterarie, benché editor letterario. Non me la sentivo di scegliere romanzi su cui scommettere, anche perché ci sono romanzi che possono essere anche stroncati, ma vanno pubblicati. E tra il critico e l'editore, ero pochissimo editore, un po' critico, non è facile la convivenza. preferivo valutare criticamente, magari con una recensione, romanzi scelti e pubblicati da altri, piuttosto che scegliere io di pubblicarne o no di nuovi. Mi viene in mente un solo esempio, Giulio puntò fin dall'inizio su Antonio Moresco, che a me sembrava un moralista apocalittico, illeggibile e anche piuttosto ripugnante alla lettura, diciamo, se i lettori di Moresco sono al corrente per esperienza personale. Passai alcuni giorni qui nell'appartamento di Pia Lagrange a leggere 400 pagine intitolate Gli esordi, accidenti, che esordi, e ne uscì così frastornate, ho detto no, questo non si deve pubblicare. Però in compenso il mio ex allievo a Venezia, Tiziano Scarpa, non a caso un cannibale, che va benissimo chiamarlo così, invece si innamorò di Moresco e lo propose e lo fece pubblicare alla Fertinelli. No, sono usciti, gli esordi sono usciti anche quelli. Gli esordi sono usciti dalla donna di Borinieri. Non lo so, comunque accetto l'obiezione, si tratta di memoria e la memoria è soggettiva a quanto parte. Vabbè, poi, sì, ma insomma l'ha fatto pubblicare da qualcun altro. Cioè ti sei sorbita l'inedito? Ho capito. No, 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 mi arrendo. Se l'hai letto anche tu capisco bene che esperienza hai fatto. piacque infatti, vabbè, al cannibale come tale scarpa. La mia sintonia invece con Bollati era di tutt'altro tipo. Era per il suo progetto che ebbe scarsa fortuna concordato con due miei carissimi amici collaboratori Franco Brioschi e Costanzo di Girolamo di cui ahimè nessuno più parla. Tra l'altro Franco Brioschi l'altro era piuttosto un di Girolamo piuttosto un filologo. Franco Brioschi era secondo me uno degli elementi filosofiche teoriche più straordinari che ci fossero in Italia. Solo che la sua filosofia era di matrice piuttosto anglosassone inglese americana in un momento in cui sembrava ai nostri filosofi che in Inghilterra e in America non ci fosse filosofia. Un guaglio tremendo. Solo la Germania. il progetto la storia della letteratura italiana vergeni letterari diretta appunto da Brioschi e di Girolamo non ebbe un successo che il successo che avrebbe meritato perché riabilitava appunto i generi e liberava dall'idea che fosse possibile una teoria generale della letteratura in cui si poteva esaminare una teoria della letteratura in cui si poteva teorizzare su Omero o su Malarmé ma voglio dire sembrò normale in quegli anni adesso sembra pazzesco una teoria della letteratura senza distinzione di generi come écriture alla francese naturalmente ma essendo la saggistica il genere che preferivo nell'attività in casa editrice questo mi mise subito in feroce conflitto non da parte mia devo dire con l'editor per la saggistica culturale politica che era un altro per cui come si fa? io non immaginavo che si lavorasse così nell'editoria che ci si potessero anche scambiare delle idee cioè che ci fosse anche una certa osmosi tra una collana e un'altra ma come è peggio che nelle università mi ero dimesso dall'università perché abbiamo constatato delle rivalità ridicole beh nell'editoria ce ne sono anche di peggiori non sempre ma ce ne sono pare che la competitività mort mort tua vita mea sia una regola generale ho l'impressione che in quegli anni di attività Giulio fosse abbastanza sconfortato è stato già detto perché anche anche perché ricordo io lui disse una volta virgolette da quando gli italiani si sono messi a leggere solo romanzi chiuse virgolette c'era sempre meno spazio per la prosa di pensiero e le idee per la storia sociale per le cose che gli interessavano gli interessavano anche perché potevano inglobare includere i problemi letterari i quali senza idee e senza senso della storia sociale erano ben poca cosa e rischiavano di essere sempre meno come di fatto è avvenuto i secoli che gli interessavano per la comprensione del presente erano il settecento illuministico dalla rivoluzione industriale in poi e l'ottocento fra patrioti rivoluzionari e patrioti diciamo per semplificare riformisti fra il modello Alfieri Foscolo e il modello questo si è già detto ma si può ripetere Verdi Cattaneo senza dimenticare l'antiprogressismo che è la vera eccezione antropologico di Leopardi l'uso che fa Bollati di Leopardi è uno dei più acrobatici insomma perché è chiaro che si trova di fronte ad un antiprogressista esplicito eppure nemico di altri nemici che meritavano l'inemicizia il problema era dunque il rapporto fra la patria rivoluzione indimententista nazionale repubblicana e un progresso accompagnato da un'etica sociale nuova e adeguata alla modernizzazione europea e oggi siamo più o meno allo stesso punto dopo ancora mezzo secolo o secoli è più di mezzo secolo che siamo parliamo di riforme e di modernizzazione ma la modernizzazione lo vediamo ogni giorno è fatale è stata ed è fatale ma le riforme che dovevano o dovrebbero governarla sono rimaste un proposito o un sogno la società si muove si adegua anche passivamente come può per impulso esterno lo Stato che dovrebbe fare le riforme la classe dirigente rimane fermo e i parassiti finiscono per essere e i partiti finiscono per essere i parassiti dello Stato il tema centrale di Bollati è come si è detto già variamente stamattina è l'Italia di fronte a un mondo moderno ignorato e da conquistare Pietro Verri illuminista nobiliare notò subito che la tradizione culturale italiana dominata dal classicismo dalle accademie e dal culto della bella forma siamo tuttora il paese degli stilisti e delle belle forme e delle belle figure era inadeguata al presente e se la nobiltà voleva dare prova di possedere ancora qualche virtù virtù reale e non formalmente cavalleresca doveva occuparsi dell'utilità economica e del bene pubblico scriveva Verri un atto utile in generale agli uomini si chiama virtù e l'animo virtuoso è quello che ha desiderio di far cose utili in generale agli uomini compito dell'intellettuale fuori citazione compito dell'intellettuale aristocratico commenta bollati il nobile che lascia la spada per imprigionare la penna gli piaceva molto questa metafora dalla spada alla penna e per incrementare e governare il progresso senza senza idealizzarlo e senza farne una religione questo è un punto abbastanza delicato perché in realtà out out progresso come religione oppure critica del progresso come apocalisse il suo punto di vista era molto più equilibrato e più realistico di quanto possa avvenire in genere nelle elaborazioni prevalentemente ideologiche per questo la letteratura italiana dice Verdi doveva cambiare rinunciare al vocabolario della crusca parlare del presente e parlare a tutti virgolette la repubblica delle lettere sparse per l'Europa se per lo passato era considerata come una società di curiosi che si occupavano di oggetti indifferenti per il benessere della società ora ha cambiato aspetto l'agricoltura le finanze il commercio l'arte di governare i popoli non c'è mai un'esaltazione del progresso senza governare i popoli governare i popoli continua Verdi questi sono gli oggetti che occupano gli uomini di studio né mai tanta connessione vi fu tra gli studi e la felicità delle nazioni quanta al di d'oggi chiusa citazione ma perché si chiede Bollati gli illuministi nobiliari italiani furono sconfitti bella domanda secondo lui per tre ragioni perché non erano rivoluzionari sembra che parli oggi non erano rivoluzionari perché irritarono la nobiltà conservatrice e pigra perché offesero la turba onnipresente dei letterati non va dimenticata un'altra ragione solo apparentemente secondaria risultarono antipatici perché erano troppo brillanti e disinvolti citazione da Giulio l'aria disincantata e provocatoria del caffè dice Bollati ha certo giovato al giornale aprendogli intorno un'atmosfera vivace mista di intelligenza e di umoro ma non va ignorato che quel tono brillante di brillante arroganza ha certamente suscitato reazioni di dispetto e non solo di consenso citazione finita gli eroi intellettuali ai quali Bollati si appassiona di più sono Verdi Mazzoni Leopardi ai confini estremi della vicenda compaiono poi le due figure in ogni senso più esemplarmente diverse Alfieri e Cattaneo da un lato la superbia antitirannica di un aristocratico inguaribilmente solo incapace di socialità perché ossessionato dal desiderio di sentirsi sovranamente libero Alfieri attraverso una idealizzazione retorica posteriori mitologicamente isolato in una misteriosa solitudine autistica qui è Bollati diventa un modello stilistico e morale per i patrioti italiani da Foscolo e Mazzini in poi modello e fantasma pericoloso la sua musa iraconda il suo furore di nobile cavaliere che a vent'anni ha letto Plutarco con trasporto di grida trasporto a chi ha letto da poco la vita di Alfieri con trasporto di grida di pianti e di furori e ne ha ammirato gli eroi di Plutarco trasmetteranno alle successive generazioni risorgimentali una concezione dell'Italia nuova e moderna separata però dai contenuti della rivoluzione francese e forte sentendosi forte di un suo primato e di valori autoctoni questo lo dice Bollati rifiutato il rapporto tra illuminismo e rivoluzione come si era dato in Francia Alfieri dopo un breve astratto entusiasmo iniziale diventa violentemente antifrancese si sa un perfetto misogallo fu però dice di nuovo Bollati un innovatore perché in un contesto storico di cui era scarsamente padrone anche questo è un lato di ritratto insomma non tutti gli uomini funzionano lo stesso modo perché in un contesto storico di cui era scarsamente padrone cercò di restaurare una figura nobile cavalleresca andata perduta nei meandri delle corti chiuse virgolette il culto del forte sentire come dice Alfieri e della virtù nobiliare fanno di lui un eterno antagonista che può esprimersi soltanto in una sublime letteratura mancano in lui i presupposti positivi della vita sociale manca la curiosità di conoscerne i legami manca la passione di stabilirli e ricostruirli in forme nuove il terzo stato socialmente in ascesa Alfieri non lo incontra lo ignora e aristocraticamente lo disprezza ai suoi occhi la classe media è rappresentata l'è stato detto anche stamattina è rappresentata da quel simbolo del male sociale che sono gli avvocati adesso sono testa di turco sono gli avvocati in Italia ci sono ragioni perché con la loro grettezza pratica e poi lo stesso Robespierre dice Alfieri lo stesso Robespierre non era forse nient'altro che un di quei avvocatuzzi falliti l'ha pagata cara ma così forse è stato all'estremo posto e nel periodo conclusivo della rivoluzione nazionale c'è Carlo Cattaneo non come Alfieri un conte piemontese orfano di padre che ha studiato inutilmente in un'accademia militare ma un proprietario terriero un borghese lombardo di cultura illuminista allievo di Gian Domenico Romagnosi interessato alle scienze positive e cultore delle più varie discipline dall'economia alla linguistica dall'agricoltura al diritto e all'ingegneria ecco le cose vanno tenute insieme questo se ne è parlato questo adesso torna il problema di una cultura che non sia frammentata per contrapposizione non un cavaliere solitario che viaggia dovunque perché non sa dove mettersi né dove ambientare la sua sdegnosa melanconia questo è saggismo puro voglio dire questa è letteratura la cosa interessante anche delle teorizzazioni di Bollati è che sono per dire con un paradosso teorizzazioni di individui teorizza un individuo e lo teorizza come un tipo all'interno della scena storica di una scena storica di due secoli di due secoli perché poi arriva anche al presente c'era un presente che Giulio Bollati detestava un presente politico che detestava come un'illusione lo detestava come un'illusione di antirealismo Gian Domenico Romagnosi non un cavaliere solitario che viaggia dunque dovunque perché non sa dove mettersi né dove ambientare come in teatro la sua sdegnosa melanconia ma un'insegnante e consulente editoriale un riformatore uno scienziato politecnico che non coltiva la cospirazione politica ma lo studio delle forme sociali nemmeno adesso si fa lo studio delle forme sociali non si sa più che razza di società è la nostra la sociologia italiana è crollata da almeno vent'anni di più mentre Alfieri continuerà a nutrire vari tipi di estremismo idealistico e antagonistico buono per ogni genere di esiliati in patria e fuori Cattaneo viene da Verdi e dall'illuminismo lombardo pre-rivoluzionario per il quale la modernità era un compito da affrontare con adeguati e ben padroneggiati strumenti scientifici e tecnici il grande tema di Bollati il più costante è questo contrasto fra due modelli o tipi intellettuali non so se sto portando Bollati dalla mia parte lo studio dei tipi intellettuali lo trovo molto interessante attraverso i quali l'Italia riflette sulla propria decadenza e arretratrezza sui problemi di una modernità nata in Inghilterra e in Francia e che la investe che investe l'Italia dall'esterno l'autobiografia di una nazione realizzata tardi e male Bollati la ricostruisce con ripetuti approfondimenti e riformulazioni quasi ossessive secondo la sua diagnosi gli intellettuali italiani hanno fallito nel loro rapporto con la modernità sociale e politica non sono riusciti a dare questo è il punto non sono riusciti a dare un vero e utile contributo ai ceti dirigenti aumentandone ai ceti dirigenti aumentandone la capacità di governare ecco gli intellettuali non hanno aiutato i ceti dirigenti a governare a governare lo sviluppo economico e i conflitti sociali l'insistenza precoce e tenace sulla diversità e la specificità italiana ha impedito alla nostra cultura di entrare nella modernità senza remore e senza pregiudizi le rivoluzioni quella industriale inglese e quella politica francese furono accolte come una minaccia all'identità di una tradizione italiana sentita come sublimità estetica e morale l'ideologia italiana di un'identità nazionale e storica irriducibile nasce fra illuminismo e lotta risergimentale come sintesi come sintesi di una doppia coscienza italiana una doppia coscienza paralizzante però coscienza critica della decadenza arretratezza e coscienza compensatoria di un passato culturale glorioso e di un primato morale civile tra virgolette da conservare e riconquistare ovviamente il moralismo qui il moralismo neoclassico e antimoderno di Leopardi non poteva che incoraggiare i legittimi dubbi e le perplessità anche di Bollati ma qui aggiunge un'osservazione molto interessante Bollati quasi senza sembrare come mettere Leopardi insieme ai suoi verdi ai suoi cattaneo ma dice Bollati la modernità non è mai un'entità univoca può essere immaginata progettata e realizzata in modi anche radicalmente alternativi come ha mostrato il più appassionatamente moderno e rivoluzionario dei filosofi ottocenteschi Karl Marx il futuro non è qualcosa di preciso è quella cosa che decidiamo che sia nel saggio sulle tragedie di Malzoni il tipo intellettuale e l'eroe tragico vengono studiati e proiettati da Bollati sulla futura storia italiana sia ottocentesca che novocentesca Manzoni costruisce un capolavoro di ingegneria di Bollati di ingegneria letteraria e morale che non esclude anzi coinvolge le sue contraddizioni e i suoi dubbi di Manzoni nello scritto sul romanzo storico Manzoni nega paradossalmente la possibilità di scrivere un romanzo storico come il narratore e come il narratore di fatto non si scappa dai generi letterari non si scappa avevano ragione Brioschia di Girolo per fare la storia sui generi letterari i generi letterari sono una realtà come il narratore Manzoni è portato anzitutto ad affermare il primato della morale per un poeta non è questo il problema ma constata anche che la storia non ha niente di morale così le due dimensioni l'una reale l'altra ideale risultano inconciliabili la storia per Manzoni è in sé priva di senso è virgolette Manzoni parla un ammasso di casi staccati di combinazioni fortuite sembra la tua storia di guerra e pace la storia non ha una logica una battaglia non ha una logica la rivoluzione francese ne ha mostrato il caos e le aberrazioni ed è questo che ha spaventato Manzoni direi giustamente non è un problema di prudenza c'erano buone ragioni per essere spaventati dal caos e dalle aberrazioni della rivoluzione francese ed è questo che ha spaventato Manzoni fin da giovane e ne ha fatto dice Bollati virgolette uno degli impediti ad agire dei disoccupati dell'azione che formano la ridottissima falange dei nostri grandi romantici chiuse virgolette si tratta di un'inibizione di fronte all'azione e alla storia di una vera e propria fobia provocata dai recenti sismi rivoluzionari di sintomi fobici di Manzoni sono peraltro abbastanza noti l'eroe intellettuale e l'Italia moderna appunto può essere questa la formula l'eroe intellettuale e l'Italia moderna può essere questa la formula che racchiude i problemi e i progetti di Bollati a sua volta intellettuale nella seconda metà del novecento alla ricerca di modelli culturali e figure esemplari che vengono dal secolo precedente nel saggio introduttivo su Leopardi prosatore fra Cresto Mazia e Operette Morali Bollati insiste sul personaggio autore saggistica cioè come dire narrativa ideologica personaggio autore sul rapporto fra lo stile e l'uomo fra scelte formali e fisionomia morale dello scrittore può darsi che in questa idea una certa forzatura in Bollati ci sia ma è esattamente questa la prospettiva che orienta tutte le indagini storiche letterarie morali e civili di Bollati la sua ricerca ha riguardato tipi e personaggi intellettuali nell'epoca delle accelerazioni storiche che definiamo modernità le ramificazioni e le variazioni del personaggio o tipo sono molte coinvolgono apertamente implicitamente anche il novecento possono arrivare fino a Croce a Gramsci a Pasolini a Calvino alla stessa strategia culturale di una casa editrice come in Audi ma le radici Bollati le cerca come si è detto soprattutto in Verdi e Leopardi in Manzoni e Cattaneo non per caso tra le prime maggiori imprese editoriali della Bollati Bonighieri ci sono state le edizioni della magnifica nella collana del Pantheon bellissima del Politecnico di Cattaneo del Caffè e dell'Epistolario di Leopardi fra l'intellettuale e la modernità c'è un terzo elemento lo stile si è parlato dello stile di Bollati anche qui c'è un lato autobiografico si parla dello stile in generale ma lui questo stile ce l'aveva c'è la questione la ricerca del modello formale dello strumento di conoscenza e espressione senza la scrittura il pensiero non prende forma quando Bollati cita il ritratto che Leopardi fece di Galileo di Galileo scrittore scienziato esempio di virtù morale e di aristocratica sprezzatura indica come un suggerimento prezioso l'idea leopardiana di stile e cioè del fatto che lo stile è l'uomo è il modo di scrivere che è un modo di essere e di pensare in un'intervista rilasciata alla rivista Idra nel 91 Bollati parlò così dei suoi propri rapporti con lo scrivere virgolette per me la scrittura è il sostituto del pensiero io non so pensare né parlare e quindi per avere un pensiero nel parlare così ai confini del chiacchierare e quindi per avere un pensiero lo devo cercare sulla pagina la scrittura è il mio cervello la mia macchina per pensare è una macchina meravigliosa se uno la sa usare se ha il dono di saperla usare al meglio e io invidio chi ha questo dono il più ampio e analitico degli scritti raccolti in invenzione dell'Italia moderna è quello sulla crestomazia leopardiana appunto ed è focalizzato sul programma di una nuova prosa capace di fondere tradizione classica e necessità moderne fu un programma estremamente audace e inventivo leopardi creò con quella antologia la sua tradizione morale e civile tentò di immettere il migliore passato letterario nel presente politico non era facile le sue idee i suoi progetti leopardi li aveva espressi con la massima chiarezza nella famosa lettera a giordani del 13 luglio 1821 scriveva chiunque vorrà fare bene all'italia prima di tutto dovrà mostrarle una lingua filosofica non c'è nemmeno oggi senza la quale io credo che ella non avrà mai letteratura moderna sua propria con questo leopardi è chiaro che bollati lo dico adesso con con spirito improvviso di sintonia pensavo che una letteratura non fosse possibile senza una prosa filosofica cioè era un saggista dovrà mostrare una lingua filosofica senza la quale io credo che ella non avrà mai letteratura moderna sua propria e non avendo letteratura moderna propria non sarà mai più nazione dunque l'effetto che io vorrei principalmente conseguire è che gli scrittori italiani possano essere filosofi inventivi e accomodati al tempo adatti al tempo presenti al tempo chiuse virgolette di leopardi leopardi era e resta uno dei più coerenti e acuti critici della modernità e il suo spirito patriottico si scontrò presto con l'ideologia ottimistica del progresso il suo risergimento era un altro tra virgolette la patria leopardiana dice bollati è il luogo dell'accordo finale tra scienza e società da un lato e interezza umana dall'altro che pertiene alla letteratura è lo spazio entro cui tentare in concreto la mutazione di segno da negativo in positivo della civiltà moderna la letteratura quindi come custode e strumento di una interezza umana è un problema molto attuale aliena dagli specialismi tutti specialisti l'eroe intellettuale moderno per leopardi doveva avere la sua voce il suo stile non doveva essere francese poiché l'Italia doveva rendersi capace di inventare la propria modernità non importarla non copiarla wow wow tutti dicono wow non copiarla costruendo la sua antologia nella prosa leopardi proietta se stesso negli autori e nelle pagine che sceglie appropriazione e identificazione appropriazione e identificazione fanno della crestomazia un'opera di critica autobiografica il laboratorio di uno scrittore il suo manifesto stilistico in forma antologica sono degli anni 90 un paio di interventi di Bollati su Micromega e su un'altra rivista Idra che non vorrei trascurare in questo caso Bollati parla senza mediazioni e non si nega all'autobiografia ma aggiungo un ricordo personale una volta mi fece i nomi dei coetanei che sentiva più vicini e che avrebbe voluto come amici collaboratori autori della Bollati Boringhieri erano Sebastiano Tempanaro marxista o meglio enghellista leopardiano Paolo Volponi Olivetti arte organizzazione sociale Luigi Pintor se ne è parlato Renato Solmi il francofortese l'adorneano deluso peraltro Di Calvino dice nell'intervista che se l'avesse voluto avrebbe potuto darci il grande romanzo della nostra epoca ma invece il suo meglio alla fine lo ha dato in un libro perfetto e remoto come le città invisibili molte delle diagnosi formulate in tutti i suoi scritti vengono riassunti così nell'articolo Il lavoro culturale di cui si è parlato stamattina uscito su Miricormega nel 96 virgolette là dove si traccia un confine netto tra arti liberali e arti meccaniche germoglia un altro tipo intellettuale che chiamerò in senso lato radicale per De Santis era il seguace della scuola democratica il radicale si erge in atto di sfida contro il principe contro il potere contro i poteri in nome della libertà di cui si sente missionario se il capostipite del radicalismo politico italiano è Mazzini non è difficile risalire da lui al maestro letterario che lo ha segnato per la vita vale a dire Foscolo e da questo al padre fondatore Alfieri questo radicalismo viziato all'origine dura tuttora magari in forme di titanismo gauchist guardiamo le manifestazioni di questi giorni in piazza mi fermo si batte poniamo per le garanzie legali e civili per i diritti civili ma non prestando alcuna attenzione alla macchina economica rischia di trovarsi costantemente spiazzato rispetto alle trasformazioni reali chiudo con un ricordo con un'associazione che sembra un po' arbitraria perché questa valutazione storica e politica conclusiva di Bollati mi ha fatto pensare con Pietro Verdi e Leopardi insieme in Bollati che fuori d'Italia un grande scrittore politico grandissimo scrittore politico il russo Alexandre Herzl ben studiato da Franco Venturi racconta nelle sue memorie passate ai pensieri che parlando con Mazzini e con i patrioti italiani che ammirava moltissimo aveva una straordinaria simpatia per i patrioti italiani umanamente presi rispetto ai fuoriusciti di altre nazioni tedeschi inglesi eccetera parlando con Mazzini che rimproverava Leopardi per non aver fatto parte della Repubblica Romana gli rispose Herzl che Leopardi era morto più di 10 anni prima cioè nel 1836 quindi non poteva esserci ma ecco l'incompatibilità tra il Mazzini diciamo come modello intellettuale e rivoluzionario e politico e Leopardi che sono gli opposti Mazzini ce l'aveva dice Herzl ce l'aveva con lui ce l'aveva con Leopardi perché non poteva essere utilizzato per fare propaganda magnifico detto tutto da Mazzini stesso Giuseppe Riccoletti Herzl era un lettore appassionato di Leopardi oltre che di Byron e capiva che fra letteratura e propaganda rivoluzionaria bisognava distinguere una distinzione salutare per i politici e rivoluzionari a tempo pieno la letteratura non aiuta a fare una rivoluzione ma serve a non vivere di sola politica è questo che vedeva Herzl nei cospiratori perché così si fa cattiva o pessima politica e le società nate dalle rivoluzioni rischiano di diventare disumane grazie allora siamo molto grati ad Alfonso Berardinelli per questa ricca varia e duplice se posso dire così nel senso buono relazione duplice perché è iniziata con una serie di ricordi personali che tra l'altro per me sono preziosi per me che non ho mai purtroppo conosciuto Giulio Bollati sono preziosi e poi una seconda parte in cui Berardinelli si è dimostrato fine critico del saggista del saggista Bollati le due parti però non sono disgiunte non sono giusto apposta l'una all'altra perché è stato anche notato questo con un inciso ma in realtà è un po' tutta la sostanza del discorso in in Bollati l'autobiografia e forse però qualche volta potremmo dire anche come in questo caso l'aneddotica l'autobiografia non è separabile non è disgiungibile dall'opera cioè dall'opera che si consolida negli scritti bisogna vedere le due cose in convergenza dobbiamo dimenticare croce che per cui conta solo l'opera e l'uomo non conta l'opera e l'uomo si in qualche modo si compenetrano detto questo vorrei aggiungere un'osservazione su un punto particolare anche poi il punto centrale mi pare delle osservazioni che Bellardinelli ha fatto sull'opera saggistica di Giulio Bollati soprattutto per quanto riguarda la formazione della coscienza nazionale cioè l'uso di modelli letterari nella formazione della coscienza nazionale giustamente mi pare che Bellardinelli abbia insistito sulla contrapposizione che avviene in Bollati tra diversi tipi intellettuali diversi tipi intellettuali che però non sono soltanto come dire idealtypen beberiani che servono da per in qualche modo configurare la doppia coscienza le due diverse coscienze degli italiani in questo loro sviluppo ma mi pare mi si corregga se sbaglio che siano anche in qualche modo introiettati da Bollati stesso per cui diventano per lui stesso dei modelli non tutti positivi positivo negativo positivo mezzo positivo eccetera qui abbiamo analizzato molto bene la contrapposizione tra il cattaneo completamente positivo e il fiero invece problematico mi riallecerei però alla relazione stamattina di stamattina di Parodi noi abbiamo visto un'altra contrapposizione tra un Leopardi tutto positivo e un Manzoni così così ma da che parte sta ma mi sembra ancora più interessante questo è solo un accenno ma mi pare interessante che a volte in Bollati la contrapposizione venga addirittura tra modelli positivi Leopardi è vero perché poi Leopardi è un Leopardi interpretato in un certo modo quindi lascia da parte quello che non potrebbe funzionare con quell'altro modello e lo fa funzionare allora complessità una grande complessità dello studioso non confusione sono due cose molto distinte la complessità dello studioso e questo è una cosa che mi fa molto piacere perché la complessità se non è confusione è sinonimo di profondità di interpretazione sì voglio aggiungere qualcosa beh diciamo sì questa è la cosa è una cosa veramente fondamentale perché si parla giustamente della forte passione speciale molto anche introversa la passione politica come se avesse Giulio una passione politica introversa o meglio coscienzialmente autobiograficamente rielaborata perché non tutte le passioni politiche si somigliano ma il fatto di intuire e alla fine riuscire anche un po' acrobaticamente a valorizzare Leopardi come patriota significa che anche in politica la politica non è tutto perché una politica che ignori il resto che ignori il cosmo cioè la società è importante e Leopardi è un critico sociale straordinario è noto è stato ristampato sui costumi degli italiani è stato variamente ristampato ed è un saggio di sociologia meraviglioso insomma considerando che ancora la sociologia non esisteva fatto per ragioni puramente autobiografiche incredibile diciamo una politica senza un'antropologia e un'antropologia senza una cosmologia finiscono per ridursi a poco a sempre meno e di fatti così accade nelle vicende della politica a forza di fare solo politica non si fa nemmeno quella si fa una pessima politica per non parlare dei rivoluzionari dicevo alla fine che insomma che cosa una volta fatta la rivoluzione che società immagini si può costruire da zero una società le società che sono nate da rivoluzioni sono nella maggior parte diventate mostruose perché programmate a tavolino senza nessuna percezione considerazione seria di che cosa è anche misteriosamente la socialità lo sappiamo fino a un certo limite ma la società non è soltanto rapporti fra classi sociali è anche un po' un mistero una società funziona per elementi così apparentemente secondari e impalpabili di cui non ci rendiamo conto le abitudini il salutarsi l'avere paura di stare soli l'aver bisogno degli altri insomma la socialità è un problema così sottile così complesso che se la politica lo riduce alla lotta politica se una politica riduce i problemi sociali alla lotta politica rimbecillisce e Leopardi serviva proprio a questo in Leopardi c'è una cosmologia un'antropologia e una sociologia e un'etica e sai non poteva non capire Bollati che non bastavano nemmeno Verri e Cataneo grazie ancora grazie ancora